Ciao a tutti e bentornati sul mio canale di programmazione Aidenhain. Se non siete ancora iscritti al canale, vi prego, fatelo così, almeno rimanete più aggiornati ogni volta che pubblico qualche video. Andiamo al dunque della brevissima lezioncina di oggi. Allora, quello che voglio realizzare io è quello che adesso vedete. Perché sembra una cosa abbastanza sciocca, è semplicemente un foro profondo 75 mm realizzato con una punta da 32 mm. Io in realtà ora l'ho programmato in questo modo, quindi senza in realtà appoggiarmi a un ciclo di foratura. Poi in realtà lo faremo anche, ma adesso mi interessava mostrarvi la cosa col punto a punto. La lavorazione che intendo fare io è quella di, con questa punta diametro 32, realizzare questa foratura profonda 75. Non voglio, diciamo, appoggiarmi al ciclo classico di foratura, il ciclo 200, perché sono pigro, non ho voglia di compilare tutti i campi della profondità 75, poi indicare che anche l'incremento dovrà essere di 75 mm, perché voglio realizzarlo in un unico step e perché all'interno del ciclo, comunque io trovo dei parametri dei tempi di sosta, che però riguardano tempi di sosta sopra e dei tempi di sosta sotto, quindi all'interno, sul fondo della lavorazione. E io invece in realtà voglio realizzare questa lavorazione in modo che durante questo movimento che mi porterà a Z-75, che periodicamente in realtà avvenga un arresto della feed, un arresto dell'avanzamento, in modo da rompere il truciolo e semplificarmi un po' l'evacuazione. Ok, in realtà dovreste sapere benissimo che troviamo tra i cicli di foratura, abbiamo a disposizione anche il ciclo 203 e il ciclo 205, questi cicli mi permetterebbero in realtà al loro interno di gestire una rottura di truciolo. Ok, quindi impostando anche un ritiro. Ok. Quindi posso decidere di rompere il truciolo un tot numero di volte e di fargli eseguire un ritiro, quindi sull'asse utensile, in modo da semplificarmi l'evacuazione del truciolo. Però decido che neanche questo ciclo qui proprio soddisfa il mio. Perché? Perché non ho voglia di usarlo, perché non ho voglia di compilare tutti questi campi, io vorrei semplicemente realizzare questo movimento a Z-75 senza appoggiarmi ai cicli e al doverlo compilare. Poi in realtà vedremo che si potrà utilizzare anche col ciclo. Ma adesso mi interessava mostrarvi questa funzione anche appunto su una programmazione punto-punto. Poi in questo caso è un movimento in Z. In realtà la funzione che vedremo è applicabile anche nella realizzazione di spianature, piuttosto che di contornature, piuttosto che di tasche. Ecco, forse in quei casi lì mi sembrerebbe un po' più una forzatura interrompere il movimento dell'utensile. In foratura invece mi immagino, anzi non devo immaginarlo, perché so benissimo che molti di voi, quando devono fare una cosa di questo tipo, potenziometro in mano della FID ogni tot millimetri, decidete di abbatterlo a zero e poi ritirarlo su, in modo da far scappare fuori il truciolo. E siccome noi non vogliamo stare col ditino sul potenziometro durante tutta la lavorazione, vogliamo appoggiarci ad una funzione specifica inserita sui controlli 640. Allora, innanzitutto è una funzione che noi dovremo attivare prima che avvenga la mia lavorazione. Ok, quindi posso individuare che questa riga 5 possa essere quella che poi precede l'attivazione della mia funzione. Allora, dove la trovo? La trovo nel tasto SPEC FCT, quindi nelle funzioni speciali. Premuto questo tasto, proseguo il dialogo con i softkey e seleziono funzioni programma. Qui mi ritrovo tre pagine di comandi. Nella pagina centrale, nella seconda pagina, trovo questo function FID ed è quello che seleziono. E da qui FID dwell. Ok, cosa mi permette di fare questa istruzione, questo comando? Mi permette di impostare una sosta, che potrebbe essere di mezzo secondo, confermo con ENT, e indicare anche invece per quanti secondi deve avvenire la lavorazione. Adesso magari provo a mettere un 5. Quindi così è. 5 per 5 secondi lavori, per mezzo secondo fai un'interruzione sull'avanzamento. Magari, se me lo concedete adesso, lo metto un po' più ampio per riuscire a vederlo più comodamente sulla simulazione. Ok? Quindi, AND, vediamo cosa accade. Quindi, esecuzione, riseleziono il programma perché ho inserito una modifica. Ok. E START. Quindi mi posiziono, arrivo a Z2, perdona, avevo attivato i rapidi, quindi tolgo. Quindi, rivediamo. Qui dobbiamo guardare lo stato dell'asse Z, vedete? che faremo fatica a capirlo guardando semplicemente la simulazione. Vedete la sosta. Quindi per 5 secondi, come ho impostato io, esegue la lavorazione, per un secondo e mezzo avviene quindi una sosta. Sicuramente il secondo e mezzo, perché molto probabilmente questo secondo e mezzo risulterebbe anche un po' esagerato, però mi serviva per, diciamo, per semplificare la la vista qui durante la simulazione. Poi in macchina è sempre un'altra cosa quando si eseguono le, quando si eseguono queste, queste funzioni. Si riesce a, si riesce a capire molto meglio. Ok. Questo è. Quindi rivediamolo. Adesso lo tolgo e così rivediamo da capo il come indicarlo. Comando, tasto sulla tastiera specie FCT, proseguo il dialogo con i soft key, prima selezionando funzioni programma, scorro le pagine posizionandomi sulla seconda pagina finché non trovo insomma il function feed. questo è quello che seleziono e questo è il mio comando dove magari adesso li metto una sosta un po' più motivata con mezzo secondo di pausa e cinque secondi il tempo della lavorazione. Attivata questa funzione in realtà rimarrà attiva per tutto quello che saranno anche le lavorazioni successive se ho altre lavorazioni analoghe potrei anche tenerla attiva o impostarla in maniera differente poi per le lavorazioni che seguono. Di sicuro comunque nel momento in cui non mi occorre più questo intervento è necessario resettarla. Il reset lo troviamo sempre con lo stesso percorso quindi specie FCT funzioni programma con i soft key function feed e accanto al feed dwell c'è anche il reset feed ok confermo con enter quindi qui viene attivata mi eseguirà questo questo movimento fino a z meno 75 quindi con le caratteristiche che ho impostato quindi cinque secondi di lavorazione e mezzo secondo di sosta terminata la lavorazione resetto questa funzione da qui svincolo ed eventualmente poi proseguo verso le altre mie lavorazioni ok questa è un esempio di punto punto in realtà questa funzione quando viene attivata poi è applicabile anche anche con i cicli fissi per cui io potrei sacrificare in realtà questo z meno 75 caricarmi un ciclo di foratura in cui indico che voglio eseguire i miei 75 millimetri di profondità con il mio avanzamento f auto e anche l'incremento sarà di 75 millimetri imposto eventualmente tutti poi i miei tutti i miei parametri distanza di sicurezza 2 visto che sono già ad uno z2 ok eventuale riferimento per la profondità e a questo punto m99 per eseguire la lavorazione o piuttosto il cycle call se preferite quindi allo stesso modo prova programma iddwell lo riseleziono premo start quindi comunque mi appoggio ad un ciclo presente nel controllo perché magari questa lavorazione poi devo ripetere su più posizioni e mi occorre appoggiarmi ad un ciclo fisso in modo da poter poi lanciare tutti gli m99 vedete adesso è più sensibile questo mezzo secondo di pausa bisogna proprio farci caso perché è molto veloce però è esattamente quello che accadeva prima in questo caso applicato anche all'interno del ciclo fisso ok ora la faccio arrivare fino a z meno 75 così ne approfitto per 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 salutarvi per dirvi sempre di di seguire il canale ogni tanto mi arriva qualche richiesta da parte vostra del perché non parli anche di questo piuttosto di quest'altro vediamo vediamo in realtà mi piace anche spiegare le cose un po' più lunghe è un po' più importanti diciamo quanto riguarda la programmazione base o avanzata direttamente di persona quindi questi sono dei diciamo dei piccoli video su quelle piccole curiosità che che non sempre all'interno di un corso si ritaglia il tempo per mostrarle tutte ok non ho nient'altro da dire se non confermate l'iscrizione al canale in modo che non vi perdiate i video fatelo sapere anche i vostri colleghi e niente tutto qua vi voglio bene ciao ciao ciao